Monosità totale per 148 degli 835 inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune. In soldoni il 18% dei residenti nelle case popolari nei primi sei mesi del 2016 non hanno pagato nemmeno un mese di affitto. Un mancato incasso per le casse comunali di 94.000 euro, con numeri che sono destinati ovviamente a peggiorare, considerando anche le morosità parziali, ovvero quelle di chi ha pagato solo saltoariamente. Dai 148 che non hanno versato nulla, solo 58 rientrano tra quei nuclei familiari già conosciuti ai servizi sociali, mentre tutti gli altri, vale a dire la maggioranza, non ne fa parte. Dettaglio che rende obbligatorio il tentativo di rientrare dal mancato introito. Se da una parte infatti resta prioritaria l'esigenza di salvaguardare il bisogno primario della casa per chi versa in condizioni di disagio, dall'altra c'è quello di chiarire certe posizioni, di responsabilizzare alcuni utenti e di privilegiare l'accesso all'abitazione da parte di chi è in attesa del riconoscimento delle proprie legittime istanze.